divenire con continue reiterazioni. Si sono cimentati in questo dei tecnici, dei professionisti, dei fornitori delle imprese. Magari professionisti senza specifica qualifica nell'ambito del recupero del costruito storico, certamente magari più attenti ai temi della sostenibilità, ma che davvero con atteggiamento estremamente umile hanno saputo mettersi in gioco, hanno saputo fare rete, hanno saputo condividere e scambiare quindi idee, hanno accettato le nostre osservazioni, hanno accettato le osservazioni degli organi preposti alla tutela. Il risultato di tutto questo che adesso andiamo a vedere è diventato quindi prima di tutto una metodologia sul come procedere, ma poi anche ha visto una mutata sensibilità proprio nell'approccio al bene culturale e davvero secondo me con risultati, torno a dire, molto buoni. Quindi adesso andiamo subito a presentare il primo di questi studi di fattibilità in chiave sostenibile ed è il complesso di Pieve Dugliara a presentare il progetto l'architetto Timoteo Sassi, libro professionista e professore a contratto del Politecnico di Piacenza. Buongiorno a tutti. Ecco molto brevemente vado un attimo a localizzare intanto l'intervento, siamo in comune di Rivergaro, questa è una delle pievi più antiche della diocesi, la tradizione locale addirittura la vuole fondata dal vescovo Savino alla fine del IV secolo, quindi certamente davvero una delle più antiche del territorio diocesano. Le prime menzioni a questa pieve risalgono però solo all'890, quindi al X secolo. Poco si sa di quello che è il complesso parrocchiale, non potendo ricostruire notizie storiche se non attraverso le visite pastorali, ma subito ci si accorge, guardando al complesso parrocchiale, in particolar modo alla chiesa, di alcune anomalie, in quanto non risulta orientata come gran parte delle pievi sul nostro territorio, ma bensì occidentata, quindi questo fa anche pensare che sia stato in qualche misura stravolto l'assetto originario. Si sa solo che a partire poi dal XIV secolo intorno alla chiesa si sviluppano alcuni stabili che sono adibiti ad alloggio dei religiosi che i vi alloggiavano. La canonica oggetto di studio, adesso il proprio tema che ci viene presentato, si presenta all'oggi abbondantemente rimaneggiata da tutta una serie di interventi che si sono succeduti soprattutto nella prima metà del secolo scorso e hanno stravolto in parte anche quelli che sono i requisiti peculiari che la connotavano, che la caratterizzavano. Ma abbiamo ritenuto comunque questo caso estremamente interessante poiché in realtà presenta requisiti di analogia rispetto a tante altre canoniche appunto sparse sul territorio della diocesi. Quindi la parola all'architetto Timoteo Sassi. Grazie mille. Prima di introdurre il tema di questo progetto volevo fare solo un accenno al generale al tema della sostenibilità indicando due concetti che mi sono abbastanza cari. Uno è un dato statistico che ci interessa a tutti che è quello che per i prossimi 30 anni saranno previste, sarà prevista la creazione di 3.000 nuove città di un milione di abitanti in tutto il mondo. Questo è un concetto semplice ma che serve a chiarire quanto sia indispensabile oggi progettare nel segno della sostenibilità. L'altra questione è quella che riguarda le misure per attuare la sostenibilità. Questo è un campo che deve coinvolgere non solo i progettisti ma deve coinvolgere gli amministratori locali, deve coinvolgere tutti gli ambiti della società perché è proprio attraverso misure alla fonte e misure di indirizzo che si possono ottenere dei risultati, non solo andando a utilizzare il pannello fotovoltaico o la singola tecnologia. Tra l'altro questo tema riguarda anche la questione dei beni culturali perché il recupero dei beni culturali è un tema che richiede so stesso incentivazione urbana, urbanistica nella progettazione urbanistica. Altri due temi che volevo tracciare sono un principio base del risparmio energetico che è quello che va di pari passo secondo me con la questione dell'erosione del territorio. Come potete vedere dallo schema superiore si possono vedere che i consumi energetici di un nucleo abitativo si riducono nei complessi plurifamiliari rispetto al concetto di villetta a schiera. Siccome negli ultimi decenni c'è stato un proliferare di questa tipologia architettonica questo è uno spezzare una lancia verso una vecchia progettazione, un vecchio modo di abitare che in realtà risulta essere molto più sostenibile che non andando a erodere la campagna. L'altro è il tema delle città, le città concentrate che a volte è stato mal visto, le città che crescono in alto.